Salve a tutti amici, in questo video vediamo come ritagliare un video o una foto in Adobe Premiere. Ho messo qua un video, dopo vi mostrerò che lo stesso effetto si applica anche alle foto. Allora abbiamo questo video, tolgo l'audio, e mettiamo che io voglio ritagliare tutta questa parte di cielo, quindi voglio fare una cosa così netta. Andiamo in effetti e scriviamo ritaglia. Trasportiamo ritaglia sopra la timeline, ed ecco qua che si attiva ritaglia. Sinistra, alto, destra e basso. Semplicemente, se noi trasciniamo da destra questo valore, ecco qua che possiamo ritagliare. Quindi possiamo fare un ritaglio netto, possiamo sfumare i bordi con questo valore, bordi sfumati. Ecco qua. Possiamo, portandola a zero, ritagliare da sinistra, dall'alto, dal basso. Una cosa che aiuterà moltissimo chi ha Adobe Premiere CC è la funzione di maschera, poiché qua possiamo decidere esattamente come ritagliare senza andare con un bordonetto. Per esempio, qua abbiamo un classico esempio, che io magari voglio ritagliare precisamente queste rocce, allora uso la maschera porigonale a quattro punti e comincio a fare una cosa di questo tipo. Allora, prima di tutto aumentiamo lo zoom, 150%, poiché qua bisogna andare di precisione. Mi muovo con questi. Ecco qua, quindi facciamo corrispondere la maschera. Poi uso il tasto CTRL per aggiungere dei punti alla maschera. Ecco qua. Quindi faccio tutti i vari punti. Ecco qua. Quindi in sostanza facciamo corrispondere i punti alla parte da delimitare. Prima di farvi vedere il lavoro ultimato, siccome qualcuno me lo chiederà, è semplicemente arrivato qua a un certo punto, trascino questo qua. E magari qualcuno mi dice come è fatto, poi a far corrispondere tutto il resto della maschera, ma basta riportare i punti in posizione qua. Io stavo semplicemente aggiungendo dei punti in questo modo, però poi alla fine la maschera deve chiudersi sulla destra, ovvero così. Quindi una volta terminati i punti, ecco adesso posso proseguire. Ok, ho quasi ultimato il lavoro, ho aggiunto tutti i punti che mi servivano. Adesso facciamo corrispondere la fine della maschera alla fine del video qua sulla destra. Quindi in questo modo, ecco, trasciniamo verso destra, qua e qua. Ah, qua devo aggiungere un altro punto di ancoraggio. Ricordatevi con CTRL sulla parte per fare il punto e CTRL sempre sul punto per rimuoverlo, se avete fatto un errore. Ecco qua. Ok, qui ho fatto un po' veloce, tanto per mostrarvelo. Torniamo indietro di zoom, 75, ok. Quindi adesso cosa è successo? Ho applicato una maschera... Ah, ok, dovevo trascinarla ancora qua. Ok. Ho applicato una maschera su questa parte, più o meno precisa. Quindi se adesso facciamo ritaglia... Destra. Ecco qua. Ho ritagliato praticamente solamente questo punto. Quindi adesso esco da qua, vi faccio vedere in play. Ok, ecco il video con la parte ritagliata. Poi ovviamente qua bisognerebbe ritoccare, vedete qua ci sono alcuni punti. Andiamo alla sfumatura della maschera, quindi... Ok, in questo caso va in avanti, quindi... Dovevo stare più in dentro con la maschera per fare questa cosa, però si può fare così, vediamo un po', eccolo qua. Con l'espansione della maschera si può fare una cosa di questo tipo. Quindi facendo così vado a sfumare, insomma il lavoro in qualche modo viene. Il vantaggio di fare una cosa di questo tipo è che... Con la maschera ho senza ovviamente, quindi il ritaglia classico, è che tutti i video che vanno sotto questo video, quindi questo spostiamolo di uno, i video che vanno sotto verranno mostrati dietro. Quindi ecco qua, vedete nella parte dove non c'è niente si vede quello che c'è sotto, in questo caso un video. Ci metto la foto. Ecco qua, quindi vedete la foto rimane qua fissa, mentre il video continua ad andare. Qua rimetto adatta, ok, per vederlo a tutto schermo. Ecco il risultato, quindi avete capito come funziona l'effetto ritaglia e che tipo di risultato possiamo avere. Adesso rimuoviamo il video e vi faccio vedere la foto. È troppo grande, quindi dimensiona a dimensione fotogramma, ok. Mettiamo, adesso la sposto qua sulla sinistra. Mettiamo che io voglia tagliare metà foto perché qua mi serve spazio per la didascalia. Anche qua vado su effetti, trasformazione, ritaglia. Se no scrivete ritaglia qua. Trasciniamo sulla foto e da destra cominciamo a trascinare. Quindi vedete, foto e video non fa differenza. Voi potete ritagliare come vi pare. Poi sfumiamo un po' i bordi magari. Ed ecco fatto. Foto ritagliata. Quindi stessa cosa delle maschere sul foto. Possiamo aggiungere tutti i vari punti per fare un ritaglio più o meno preciso. Però il vantaggio ovviamente di Premiere è la parte del video. Quindi possiamo ritagliare il video come più ci pare. Soprattutto se abbiamo Premiere CC possiamo usare la maschera. Se no dobbiamo ritagliare a bordinetti. Sinistra, altro, basso e a destra. Non c'è modo di ritagliare in un modo più personalizzato. Spero di essere stato chiaro. Un saluto a tutti.